Le forme di controllo, di precauzione che le autorità italiane possono mettere in campo, quali sono e sono sufficienti? Abbiamo visto gli scanner per vedere se hai la febbre in aeroporto, che cosa dovrebbe fare il governo e che cosa sta facendo tutto bene? A me pare che per una volta il governo sia assolutamente all'altezza della situazione, perché è stato messo in piedi immediatamente un sistema di controllo, poi chiaramente le notizie arrivano e ogni giorno ne sappiamo di più e quindi dobbiamo modulare la nostra risposta a quello che ci dice l'osservazione della malattia e dei pazienti. La misurazione della febbre è utile perché blocca le persone sintomatiche, ma ora che sappiamo che il virus può essere trasmesso da persone che non hanno sintomi e che il virus ha un'incubazione che può arrivare fino a dieci giorni, ovviamente è solo una parte del lavoro. L'altra parte del lavoro è seguire queste persone dopo che sono arrivate e tenerle, se possibile, isolate dagli altri, perché potrebbero sviluppare la malattia e trasmetterla. Ricordiamoci che purtroppo non abbiamo vaccini, purtroppo non abbiamo farmaci, l'unico modo che abbiamo per controllare questa malattia è sfruttare quello che la scienza ci ha dato, che credetemi non è poco, la possibilità di fare la diagnosi e di isolare tempestivamente i pazienti.